Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In Sipilli, 4 km di coda per un veicolo in fiamme al km 11.500 tra Montelupo Fiorentino e Lastra Signa, in direzione Firenze. Per lavori sul viadotto del Turbone, possibili disagi tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta, in direzione Firenze. In conseguenza dell'emergenza sanitaria del coronavirus, nell'ottica di porre un limite ai contagi, raccomandiamo a tutte le persone di limitare, ove possibile, gli spostamenti ai casi strettamente necessari, secondo le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Muoversi in Toscana Info